Sono passati otto mesi dalla prima emergenza sanitaria con l'erogazione di briciole rispetto al fabbisogno reale, stanziati 22 milioni sul totale di 147 milioni previsti dal Cura Abruzzo 1 e 2. È forte la denuncia dei consiglieri regionali del centro-sinistra sul lavoro portato avanti dalla Giunta dall'inizio della pandemia. L'ultima delibera di rimodulazione di questi fondi è addirittura del 27 di ottobre. Serve adesso la delibera di Giunta, poi l'inizio dell'avviso pubblico, poi la scadenza dell'avviso, poi l'istruttoria e poi l'erogazione. Insomma, sono conti abbastanza matematici ed oggettivi. Assieme a questo ci sono tantissimi enti che sono in attesa. Poi vi ricordate la polemica dei comuni abruzzesi, soprattutto quelli di centro-destra, contro il Ministero e il Governo che non avevano stanziato fondi per i comuni della zona rossa del nostro Abruzzo. Bene, lavoro dei parlamentari abruzzesi, quei fondi sono arrivati, sono previsti, 426.000 euro per esempio per il Comune di Penne e i fondi invece che sono stanziati per le zone nostre nelle nostre leggi regionali, assolutamente no. Dei 200.000 euro si è persa traccia. Del 1.260.000 euro che come centro-sinistra abbiamo fortemente voluto per le micro e medie imprese delle zone rosse, assolutamente si è persa traccia. Si è persa traccia dei ricontributi per gli asili. Un ritardo definito inaccettabile dei consiglieri di centro-sinistra e che ricade sulle spalle degli abruzzesi e delle aziende della nostra Regione. Ci sono ritardi dovuti alla burocrazia ma anche all'incapacità di questo Governo regionale di trasformare le promesse in fatti. Tant'è solo il 15% di risorse che loro hanno impegnato con le due leggi, cura Abruzzo 1 e 2, sono arrivate nei conti correnti delle famiglie, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. Tanti stanno attendendo ma sono passati purtroppo mesi. Loro per mesi hanno lavorato solo per il Napoli Calcio, per le guerre interne alla maggioranza, il rimpasto di giunto, la cacciata di due assessori, l'aumento degli stipendi dei dirigenti regionali e dei manager delle altre. Mentre ci sono famiglie, imprese, lavoratori in difficoltà che attendono risposte puntuali da parte di questa giunta che purtroppo è lenta e inefficiente.